Vigevano deve unirsi a Milano perché è da lì che arriva il capitale. Queste le parole di Carlo Alberto Carnevale Maffè, presidente di ASM Energia, sulla crisi del distretto calzaturiero. La minoranza in consiglio comunale ha convocato martedì sera una commissione. Durante l'incontro si è parlato di possibili soluzioni che potrebbero risollevare il settore calzaturiero nella città ducale. Queste commissioni difficilmente portano delle grandi idee, delle grandi soluzioni, però rappresentano un momento in cui ci si raffronta senza la faziosità tipica invece più del consiglio comunale. Le idee, noi abbiamo prodotto un documento nel quale suggerivamo qualche ipotesi che poteva essere, abbiamo chiamato il documento Salviamo il Salvabile e oltre perché salvare salvabile significa salvare ciò che rimane del comparto calzaturiero con l'alta qualità e eventualmente pensare anche a dei progetti di formazione che sono indispensabili per mantenere questo livello qualitativo sul territorio. Purtroppo le cose da fare sono tante, andava fatta forse tanto tempo fa, sicuramente adesso bisogna fare azioni per tutelare l'occupazione, il settore calzaturiero è in crisi, tante aziende sono in crisi, io stesso ho potuto vedere nelle scorse settimane manovie ferme e quindi vanno poste a essere azioni subito, però nello stesso tempo servono queste commissioni per parlare della Vigevano del futuro, di cosa avverrà. Per noi serve una formazione, serve il turismo e serve puntare su nuovi settori perché comunque Vigevano deve guardare al futuro e deve guardare a nuove prospettive anche al di fuori della nostra città collegandosi con realtà con prospettive migliori. Il sindaco Andrea Ceffa ha ricordato poi che si sta progettando il nuovo piano di governo del territorio. Il PGT non sarà solo una soluzione momentanea, ma lo stiamo modellando per i prossimi 10 o 15 anni. Sarà lì che arriveranno i benefici del lavoro di oggi, ha detto il primo cittadino. Per una città del futuro bisogna pensare però anche alle nuove tecnologie. Creare una smart city e prestare attenzione a nuove professionalità potrebbe attirare investimenti. Sul tema dell'agganciarsi a Milano è intervenuta anche Barbara Verza di Italia Viva, che ha commentato che Vigevano avrebbe dovuto unirsi a Milano dieci anni fa se avesse preso quel treno. Ora la situazione sarebbe diversa. La regione aveva proposto di creare una filiera della calzatura unendo i distretti di Vigevano e Parabiago. Per avere i finanziamenti regionali però bisogna prima preparare un progetto concreto che al momento non c'è.